Ogni hobby occupa un posto speciale nella vita delle persone, permettendo di esplorare nuove culture, abilità personali, possibilità creative, mettendo a frutto anche tanta fantasia. Gomitoli di lana, cotone, uncinetto sono i materiali per cominciare a creare animaletti, giocattoli e decorazioni, utilizzando una pratica di origine giapponese, l'amigurumi. È l'arte giapponese di lavorare all'uncinetto a maglia a piccoli animali o creature antropomorfizzate. Questa parola deriva dalla fusione di due parole giapponesi, che sono ami, che significa lavorare a maglia o all'uncinetto, e nuigurumi, che significa peluche. La mia passione per il lavoro all'uncinetto iniziò ben 12 anni fa, quando avevo appunto 12 anni, quando mia madre mi insegnò questa pratica. Quindi iniziai a lavorare le mie prime creazioni all'uncinetto. Invece ad aprile, quindi pochi mesi fa, ho scoperto il mondo degli amigurumi da un semplice post su Instagram, che mi è capitato tra i suggeriti. Ho visto queste piccole paperelle, erano così carine, tutte fatte all'uncinetto, e quindi ho deciso di iniziare a riprodurre gli amigurumi. E da allora non mi sono più fermata, e ora questa è una delle mie attività preferite, stare tutto il giorno a fare amigurumi, e mi danno tantissima gioia perché sono così carini. Caratteristica fondamentale degli amigurumi è quella di incarnare una tradizione giapponese che ha radici molto antiche. Quest'arte ha visto un'esplosione proprio negli ultimi anni, soprattutto sui social, espandendosi ben oltre i confini del Giappone. Che si tratti di un semplice passatempo o di una vera e propria arte, l'amigurumi incarna tutti i benefici che possono derivare dalla creatività e dalla condivisione. Ognuno di noi, ognuna delle persone che passano e si fermano ai mercatini degli artigiani obisti, ha una propria personalità, le proprie peculiarità. E questo rappresenta molto spesso una sfida, però effettivamente è anche una grande occasione di crescita.